ciao a tutti benvenuti sul mio canale oggi facciamo la faccio l'unboxing degli ionio yn 622 c quindi per cano la seconda versione se sulla scatola sono differenti dalla prima versione perché hanno la compatibilità sia con la vecchia versione quindi 622 e il flash sempre ionio versione 560 rx ok andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola sono confezioni da due logicamente minimo bisogna averne due per farli andare allora dentro la scatola manualino inglese e cinese e i due transever che sono sia ricevitore che trasmettitore a seconda di come vengono messi ovvero se l'impostate sulla macchina se li collegate la macchina fotografica loro in automaticamente si imposteranno su trasmette sul trasmettitore come trasmettitori se invece attaccate solo flash si imposteranno in automatico come ricevitori allora ecco con la coppia andiamo a vedere un po più da vicino allora sulla destra ci sono i tre gruppi a b e c il pulsante gp 7 per settare il gruppo eccolo qua ho sbagliato il coso fuoco benissimo allora ripetiamo però non si vedono granché allora gp 7 per settare i gruppi abc poi c'è un selettore per impostarli su off oppure 560 rx oppure 622 poi sul lato sinistra abbiamo il set il pulsante per settare i canali quindi 123 e pulsante test che è questo qui sotto e poi questo dovrebbe essere l'attacco per i flash da slitta ok parte superiore abbiamo l'attacco per il flash parte inferiore abbiamo il l'attacco nuovo a levetta senza quella antipatica ghiera che a me proprio non piace speriamo che vadano bene questi ok poi sotto abbiamo vanno batterie per due batterie a a e quindi direi che siamo a posto a qua c'è anche una porta micro usb non so se riuscito a vederla penso per l'aggiornamento e davanti il sensore infrarosso perché questi funzionano anche in in e ttl quindi altro non saprei cosa aggiunge poi farò una dopo aver letto il manuale se riesco a fare una piccola recensione o almeno a vedere come funziona a fare delle delle prove tanto quattro gli altri due che sono uguali quindi avremo un terzo è un quarto ok per chi ha nikon logicamente deve scegliere invece che il 622 c il 622 n faticista per canon per nikon i due sono usciti adesso da poco diciamo è la differenza con con la prima serie sono giusto la compatibilità e l'attacco sotto ok spero di aver detto tutto se riesco a fare delle prove poi farò un altro firmato allora eccoci qua con la continuazione del video non resistito quindi l'ho aperti subito inserito già le pile per fare una piccola descrizione di come funziona allora andiamo a vedere accenderli sul 622 canale 1 gruppo a così almeno forse si vedono un po meglio ok eccoli qua allora sfogliando velocemente il manuale delle delle istruzioni ho visto si possono impostare ben sette canali ovvero canale 1 canale 2 canale 3 canale 3 canale 4 canale 5 canale 6 e canale 7 ok si vedono le lucine vediamo un po' qua quindi con tutte e tre i led accesi vuol dire che il canale 7 ok quindi facciamo un test per vedere tutte le lucine accese ok i gruppi per settare il gruppo col tastino sulla destra andiamo sempre a fuoco ok allora si può lavorare col gruppo a col gruppo b se riesco a vedere il flash gruppo c oppure lavorare col gruppi a e b dov'è che si accende bisogna tenere schiacciato o no eccolo qua allora bisogna tenere schiacciato il test per andare sui gruppi allora abc a più b a più c b più c e a più b più c quindi lavoro su sette canali e tutti e tre i gruppi sia separatamente che eh che tutti assieme quindi possiamo decidere eh quanti flash ad operare adesso non so quanti ne possiamo mettere su ogni gruppo comunque possiamo lavorare eh con un numero abbastanza elevato di di flash ok allora accensione eh all'accensione c'è il led rosso che mi dice che è impostato su 622 ecco vediamo un po meglio se io metto su 560 rx vedete che il led diventa arancione qua si reserta di nuovo tutto perché è un'altra lavora su un'altra frequenza quindi se andiamo su torniamo su 622 vedete che è tornata l'impostazione che ho messo prima ovvero il gruppo c e il canale 7 adesso andiamo un attimo a settare di nuovo il canale sull'uno eccolo lì è il gruppo di qua andiamo sul gruppo a perfetto ne ho già montato uno in macchina santo adesso non posso farvelo vedere perché sto riprendendo con la con la macchina fotografica vi riprenderò con qualche devo usare qualche altra cosa per riprendere il funzionamento della macchina comunque ho già fatto uno scatto di prova e si direbbe che funziona bene ok adesso se riesco a fare anche la prova e riprendere e trovare una telecamera per riprendere il tutto vi posterò pure quella grazie ciao